Dunque noi, vi dicevo, faremo questo lavoro. Partiremo dalle lettere paoline, faremo questi scavi archeologici e andremo parecchi indietro. Questi testi che troviamo, uno è questo qui, e gli altri sono questi qua. Uno è Prima Corinti 15, testo che abbiamo già letto e conosciuto, e gli altri sono gli inni liturgici. Gli inni liturgici avranno delle belle sorprese. Io penso che nessuno si scandalizzerà dei risultati che usciranno fuori. Quando si dice a uno che il Magnificat, forse Maria Vergine, non l'ha detto, se non è preparato, gli viene un colpo al cuore. E poi qualcuno scrive sul gazzettino, ma l'ignoranza diffusiva sui. L'ignoranza si diffonde da sola. La conoscenza è molto più faticosa a diffonderla. E quando si dice che il Benedictus non è di Zaccaria, a qualcuno crolla l'universo. Io dico sempre, ma allora, quando si prega, la testa dov'è, porca la miseria. Perché? Se io sto pregando e sto dicendo le parole di Zaccaria, che è il papà di Giovanni Battista, che è sacerdote, che appartiene alla tribù di Levi, e trovo scritto, Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato l'evento del suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa, Davide è della tribù di Giuda e questa salvezza potente è il Messia, non è Giovannino. Vedete, il servizio alla verità non è facile. Ed è la verità, non dobbiamo mai prendere paura. Non è che la verità deve adeguarsi a noi. Noi dobbiamo avere la pazienza e anche l'umiltà di adeguarci alla verità. Ma d'ora è nata quella verità incompleta. Certo, ma è verità. Vi ricordate di Don Ferrante, Promessi Sposi? La peste non è né sostanza né accidenti. Quindi non esiste. È morto di peste. Cioè, è inutile che tu ti abbarbichi a una conoscenza sicurissima, secondo te, del passato e non presti attenzione a quello che è l'oggi. L'oggi è un cammino verso la verità. E se oggi tu hai un frammento di verità superiore a quello che c'era nel passato accoglilo. Il non accogliere questo frammento di verità ti fa morire di peste. Il grosso problema di Ebola in Africa qual è? Che la gente dice non esiste. E poi muoiono. Aveva ragione Einstein che diceva che è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio. E noi cristiani di pregiudizi proprio ieri sera discutevo con i miei colleghi mi dicevano e c'è quella bella tradizione di Gioachino, Anna, genitori di Maria. Allora mi guardano e tu che ne dici? E dico è una balla. Cosa volete che vi dica? Ah, dice tutto ciò che non c'è nella Bibbia è una balla. No, 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 dico è che questa tradizione nasce dopo il quarto secolo. Nasce. E quindi è inventata di sana pianta. Cosa sappiamo noi? Cosa è successo quattro secoli fa? in casa del contadino che viveva qui al posto del seminario? Devi inventare. Sarà una pia invenzione simpatica per l'amor di Dio come la stella cometa sul presepio? Va benissimo ci mancherebbe. Nessuno perde la fede per questo. Mandare a crederci sarebbe un grosso guai. Bene, noi cercheremo per quanto riusciamo a fare di superare queste paure e cercare ciò che è la verità. Naturalmente è una verità che conferma altre cose e altre le amplifica le completa. Certamente sulla verità che noi troveremo dobbiamo avere la prudenza di dire ce n'è ancora tanta che non conosciamo. E quando voi conoscete un frammento di verità e la assolutizzate come fosse tutta allora diventate devastanti. se invece noi acquisiamo nuove verità ma sappiamo che sono verità che vanno completate perché ce n'è ancora diventi tollerante se no diventi di un'intransigenza micidiale se pensi che quello che hai trovato è una verità definitiva. A me piacerebbe lasciare in eredità quando il Padre Eterno vorrà che io vada a giocare a carte con lui e mi piace. Lasciare questo concetto mai aver paura della verità che si conquista che si trova magari che si scopre aver paura dell'intransigenza che ne può nascere se si assolutizza quella verità. L'unica verità che si assolutizza è Dio. Basta. e lui è la verità e quindi tutti questi passetti sono un avvicinamento a lui avvicinamento non totalizzazione. Spiegavo agli architetti dell'università che vengono a fare il master che l'aniconismo biblico cioè la proibizione di farsi immagini ha la sua radice proprio in questo sommo rispetto gli ebrei dicono fin quando c'è storia Dio ha uno scenario per manifestarsi e quello che si è manifestato fino ad oggi non è ripetitivo ci sono state progressivamente delle novità e quindi ce ne saranno ancora fin quando c'è storia questo che cosa comporta che tu non hai il diritto di farti di Dio un'immagine cristallizzata devi devi farti di Dio un'immagine aperta perché Dio domani può intervenire nella storia in una maniera assolutamente nuova rispetto a come si è manifestato in precedenza questo dato di fede applicalo alla verità e sei a posto vi è chiaro con quale spirito affronteremo il problema bene adesso tenete ancora duro un poco perché stiamo per finire come affronteremo questo problema dei testi più antichi perché oggi c'è anche questo tema da affrontare allora vi dicevo che la comunità nascente lascia una testimonianza inizialmente non narrativa ma nasce lascia una testimonianza che è una confessione di fede cioè la comunità nascente non ti spiega l'avvenimento ti dice c'è stato confesso che c'è stato e poi lo contempla per capire bisogna stare zitti e fermarsi noi invece abbiamo bisogno della formula che ci risolva tutto abbiamo una premura folle su tutto mentre invece la contemplazione è silenzio e comprensione progressiva noi scopriremo testi che nascono non da questa matrice culturale ma nascono da questa matrice culturale e da questa successivamente noi avremo i testi che ci piacciono ma inizialmente abbiamo testi a cui noi dobbiamo adeguarci con questo criterio quello che leggiamo sappiamo che è una testimonianza io ho visto questo punto io ho contemplato questo punto i Vangeli invece ti narrano io sono madre essere madre è un'esperienza quasi indicibile quello che si dice della maternità è solo poco rispetto al vissuto ma ti spiego io come nasce il bambino come bisogna sculacciarlo per buttarli fuori un pochettino i cattarri come bisogna lavare questo cramina che ha addosso come bisogna metterlo poi sul cuore della madre in modo che il bambino risenta il battito cardiaco come bisogna lasciarlo in pace è un'altra cosa parlano tutti e tre dello stesso tema ma capite che sono forme diverse se riusciamo a capire questo solo questo noi faremo un anno estremamente interessante bene adesso scendiamo giù dalla poesia e andiamo al pala e piccone come si fa partendo dal testo di Paolo a scendere giù cioè a fare questi scavi e a portare a galla testi molto più antichi allora la prima cosa che noi dobbiamo fare è conoscere benissimo il greco però già fatto non preoccupatevi già fatto siccome noi lavoriamo in sinergia quando lo conosco io più che sufficiente se poi c'è qualcuno che mi dà una mano ben felice il secondo passaggio è l'attenzione al vocabolario ognuno di noi ha un suo vocabolario difficilmente sentirete dal sottoscritto l'aggettivo perspicuo io non l'adopero se voi parlate con Monsignor Guaia lo adopera spesso fa parte del suo vocabolario non del mio ognuno di noi ha il suo vocabolario gran parte di questo è condivisibile con tutti gli altri ma poi c'è qualcosa di personale lo studio del vocabolario di Paolo è importante perché molto spesso in certi brani anche brevi voi trovate un vocabolario che non è Paolino trovate cioè delle parole che Paolo non usa mai usa solo lì e basta quando ne trovate uno non è indice di niente anche a me capita di dire perspicuo perché per fare l'esempio l'ho dovuto dire ma quando io in un piccolo brano trovo tre quattro cinque apax legomena apax legomena è il vocabolo che compare una volta sola e magari scopro che questi vocaboli non solo sono apax legomena di Paolo cioè Paolo non li adopera mai ma non vengono mai adoperati neanche nei testi del Nuovo Testamento queste parole vengono adoperate solo nel greco dell'antico cioè nella traduzione dei settanta allora comincio a tirar su le antenne secondo quando io vedo certi vocaboli che Paolo adopera ma qui hanno un altro significato rispetto a quello che Paolo dà a quel vocabolo anche questo mi sospettisce è difficile che una persona adoperando una determinata parola in tutti i suoi discorsi quella parola significhi blu e qui e solo qui significhi giallo c'è qualcosa che non funziona terzo oggi oggi noi abbiamo questi aggeggi micidiali una volta si adoperavano le concordanze quei bei volumoni che si ti cadevano sul piede erano guai e tu controllavi le costruzioni grammaticali e sintattiche parola per parola perdevi gli occhi perdevi giornate adesso in cinque minuti il computer lavora per te vedere costruzioni che Paolo non adopera mai e qui vederle adoperate in pochissimo spazio con frequenza questo ti dà un altro indizio per dire questo testo non è di Paolo poi cominci ad esaminare il contenuto perché fino adesso abbiamo adoperato la forma e ti accorgi che i concetti che sono qui non sono paolini vi faccio un piccolo esempio quando Paolo parla della redenzione dice che noi siamo stati redenti dalla morte di Cristo e dalla croce di Cristo Paolo non adopera mai il concetto di aima sangue mai e se tu lo trovi e dici alt noi siamo stati salvati dal sangue di Cristo non è di Paolo un indizio solo non dà nessuna risposta ma quando io trovo uno due tre quattro cinque di questi elementi trovo tre quattro apax legomena trovo due tre cambi di significato trovo costruzioni sintattiche che Paolo non usa trovo concetti che Paolo non usa trovo strutture letterarie che Paolo non usa dico no questo non è di Paolo lo estraggo e quindi lo devo studiare per se stesso indipendentemente dal contesto dove l'ho pescato e voi sapete che ogni testo lascia il timbro dell'epoca e del luogo dove è stato scritto vi anticipo un piccolo esempio così chiudiamo in glorie pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso e che traduzione il suo essere come Dio la sua ugualianza con Dio in greco c'è la parola tesoro geloso e una parola sola in greco arpakmon deriva dal verbo arpazo solo che questo vocabolo non appartiene a tutto il mondo del greco e del mistico questo viene adoperato dagli scrittori della zona di Cipro e della zona del golfo di Antiochia siamo in epoca arcaica in epoca arcaica noi abbiamo tre centri del cristianesimo Gerusalemme Damasco Antiochia dove può essere stato scritto il testo che ha quel vocabolo non a Gerusalemme non a Damasco ma o a Cipro o ad Antiochia non c'è scampo secondo questo testo che contiene quel vocabolo ha solo il greco dei settanta i vocaboli sono del greco dei settanta non del nuovo testamento può averlo scritto un pagano o un ebreo di lingua greca se noi analizziamo i cristiani di Antiochia i cristiani di Antiochia sono tutti ebrei di lingua greca sono tutti ellenisti allora la cosa comincia a quadrarmi questo testo appartiene alla chiesa Antiochiana che poi è stata fondata dagli ellenisti di Gerusalemme i quali devono correre di corsa al nord perché sono perseguitati allora comincio a capire che questo testo nasce da gente perseguitata che parla greco che non conosce il testo ebraico dell'Antico Testamento ma conosce il testo greco dell'Antico Testamento e tutti questi bei fenomeni avvengono negli anni 40 e quindi questo testo è antiocheno degli anni 40 ci siete? questo sarà il lavoro che noi faremo all'inizio della conversazione e poi cercheremo di entrare dentro nel testo per capire quello che il testo ci dice grazie buona domenica grazie 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 grazie